Oggi parliamo di tennis con la campionessa Sandra Cecchini che tutti ricorderete, grazie Sandra di essere qui. Tu hai avuto una carriera straordinaria, il successo raggiunto molto presto e grandi titoli internazionali. Hai raggiunto la quindicesima posizione nel singolare e la ventiduesima nel doppio. Ecco, questa è l'estate dei successi sportivi italiani. Verrà ricordata veramente come l'estate dei trionfi dell'Italia nello sport. Ricordiamo gli europei di calcio, la nazionale di Mancini, le olimpiadi di Tokyo, l'europeo di pallavolo. Ecco, anche nel tennis l'Italia si è fatta valere con la finale di Wimbledon del nostro Matteo Berrettini. Quindi il tennis italiano è in fase di ascesa? Grazie per l'invito in primis. Sicuramente nel settore maschile stiamo attraversando un periodo stupendo. Siamo un pochino più in calo in quello femminile, ma i ragazzi Berrettini, Sonego, Sinner, Fognini, anche se sta accusando un pochino, stiamo attraversando un periodo forse che dopo gli anni di panatta non ce ne sono stati. Quindi c'è un incremento nel nostro settore stupendo. Un'estate passata all'insegna delle vittorie dei ragazzi dove c'è stata una gioia e comunque è una cosa molto positiva per il nostro sport. Infatti perché i successi dei campioni trascinano i tifosi e anche la pratica sportiva. Ecco, allora nel tennis femminile cosa si può fare per migliorare? Voi tenniste degli anni 80 e 90 ci avete veramente fatto sognare. Noi ragazzine volevamo tutte essere come te e conquistare il mondo. E oggi? E oggi stiamo attraversando un periodo un po' di difficoltà, soprattutto penso perché non c'è stato il pensiero di provare a organizzare e creare un bacino nel periodo di massima dove siamo partiti io, Raffaella Reggi, poi è passata Silvia Farina, poi c'è stata la Pennetta, poi c'è stata la Errani, poi c'è stata la Vinci. Quindi in quel periodo lì secondo me non c'è stato il pensiero di costruire un futuro. Hanno cercato di vivere i momenti stupendi che abbiamo fatto passare noi e soprattutto le ragazze la Vinci, la Pennetta e quindi si è dimenticato un pochino di quello che poteva succedere dopo. E secondo me adesso avremo un 10-15 anni nel settore femminile un po' di scadenza, di tribolazione. Bene, tennis maschile e tennis femminile. Parliamo di un problema che riguarda molti settori del lavoro e anche lo sport. Non è solo italiano ma purtroppo si verifica in tutti i paesi del mondo il gender pay gap e cioè la differenza di reddito fra maschi e femmine a vantaggio dei maschi a parità di mansioni. Ora nel tennis è difficile fare confronti perché le carriere dei campioni sono molto diverse ma i montepremi dei grandi tornei sono stati parificati o c'è differenza fra tennisti e tenniste? Guarda questa è una bella domanda perché io quando ho iniziato il professionismo nell'84 noi giocavamo e avevamo il 30% in meno del montepremi dei ragazzi. E fortunatamente siamo state noi, io insieme a Navratilova e Chris Evert all'inizio proprio a lottare per riuscire ad avere la parità e adesso le ragazze hanno lo stesso montepremi dei ragazzi. Nonostante le partite abbiano una durata diversa giusto? Sì sicuramente per quanto riguarda il grande slam perché per gli altri tornei giochiamo tutti 2 su 3. Grande slam i ragazzi fanno 3 su 5 quindi ogni tanto quando sento la mentele dei maschi che vorrebbero qualcosa in più forse lì hanno ragione perché 3 su 5 comunque è un impegno non indifferente. Noi giocando 2 su 3 ci sta però sono 4 tornei all'anno tutto il resto facciamo le stesse cose. Senti Sandra tu oggi alleni i giovani. Il tennis è un'importantissima scuola di vita perché propone dei valori fondamentali per la crescita individuale della persona. Non bisogna mollare mai, puoi sempre rimontare, devi comunque perdonarti e dimenticare gli errori del passato. E poi sei solo perché è uno sport individuale, puoi contare solo su te stesso. Ecco i giovani come recepiscono questi valori? Ma non è semplice, oggi lavorare con i giovani è abbastanza complicato soprattutto perché c'è l'entrata un po' da dietro dei genitori che non permettono comunque di, non dico educare, io parlo di educazione sportiva sempre, non mi permetterei mai di entrare in una situazione genitore-figlio di un rapporto in casa, di un rapporto padre-figlio, madre-figlia. Io parlo di un'educazione sportiva. E' molto difficile perché al giorno d'oggi si è ribaltata un po' la nostra società. Io quando giocavo sinceramente, mio babbo arrivava a casa, l'allenatore mi ha sgridato, lui mi diceva fatto bene, poi se non fai quello che ti dice ti sgrido anch'io. Adesso si è ribaltata la biscia, nel senso che il bambino va a casa, il genitore viene da noi e dice ma perché hai sgridato mio figlio? Per dire, quindi non è semplice, però sai io nel mio insegno e quello che do è un'esperienza che ho vissuto e la vita che mi sono formata. Quindi io dico ai ragazzi che quando iniziano a giocare loro devono capire che lo sport è educazione, rispetto in se stessi e negli altri. Poi se viene il risultato ben venga, però il rispetto dell'allenatore, dei compagni e dell'altro non deve mai mancare. Non è semplice al giorno d'oggi insegnare queste cose. Senti Sandra, ci racconti la tua vittoria più bella? Ma questa è una domanda, guarda, ci ho pensato un po' e me la chiedono tutti. Io di vittoria ne ho fatte tante e quindi sono tutte belle. Ho battuto Chris Evert, ho battuto Sabatini, ho battuto la Sanchez, ho battuto la Novotron, ho battuto anche Uber. Quindi ho avuto delle vittorie stupende. Però ti ricordo due sconfitte che per me sono meravigliose. Una con Steffi Graf che persi 6-4 al terzo a Berlino e fece una partita straordinaria. E un'altra a Roland Garros che persi da Monica Seles in tre set. Lei vinse il Roland Garros e perse solo il set con me. E per me queste sono le due vittorie più belle della mia carriera, anche se sono sconfitte. Grazie mille Sandra, è stato un onore. In bocca al lupo. Grazie a voi.